Con la richiesta di oggi si parte con una nuova modalità di esercizio della funzione di controllo e di proposta attribuitaci dalla legge. Inizia così in una nota stampa il consigliere di minoranza del comune di Castellabate Luigi Maurano, la segnalazione di più criticità che interessano una determinata zona del comune di Castellabate, con i naturali suggerimenti di risoluzione dei problemi e addirittura con l'indicazione delle risorse finanziarie da utilizzare per farlo, spiega il consigliere. Si inizia con la strada comunale Salleo, percorsa quotidianamente da molti cittadini. L'asfalto è ormai deteriorato e le buche crescono di giorno in giorno, con buona pace degli ammortizzatori e con le benedizioni degli automobilisti. In alcune parti poi il bordostrade è privo di parapetti e nonostante il dislivello con il terreno sottostante, sia superiore ai 3 metri, fa sapere Maurano. L'unica staccionata che c'è è in completo stato di abbandono. Lo specchio parabolico all'incrocio, meglio conosciuto come croci, è stato posizionato in maniera sbagliata, causando già diversi disagi ai cittadini. La vegetazione a fianco della strada non viene controllata, così che i mezzi più alti trovano in alcuni punti difficoltà oggettive a transitare in maniera agevole, il restringimento della carreggiata in alcuni punti. Per questo con la richiesta di oggi si chiede per la strada comunale Salleo di rifare l'asfalto, installare i parapetti, sistemare la staccionata malandata, riposizionare lo specchio all'incrocio, controllare la vegetazione al lato della carreggiata e allargare la strada ove possibile, chiede il consigliere Maurano. Per fare questo basterebbe destinare parte dei proventi delle multe per manutenzione e sistemazione delle strade, oppure utilizzare parte dei proventi derivanti dai permessi a costruire, che nel 2018 sono stati più di 150.000 euro. Insomma, per essere chiari, le risorse ci sono, bisogna solo gestirle meglio di come è stato fatto in questi anni, conclude così il consigliere di minoranza del Comune di Castellabate Luigi Maurano.